Se siamo arrivati a questo punto lo dobbiamo in grandissima percentuale e anche ovviamente al lavoro perfetto di Ezio Rossi, di Gritti, del preparatore Bellini e poi Zaccarelli ha dato il tocco finale, direi che è stato un lavoro in due tempi di equipe comunque hanno fatto tutti molto bene, siamo molto soddisfatti complimenti al Perugia che ha fatto una bellissima partita stasera Grazie a tutti